Cosa fa un defibrillatore? Salva vite umane. Per questo deve trovarsi in ogni luogo pubblico, così da essere utilizzato con successo nel giro di pochi istanti. Tuttavia, se non è garantita la protezione da agenti fisici, atmosferici, manomissioni e tentativi di furto, il defibrillatore non può essere posto in determinati punti, sebbene siano strategici per la salute pubblica. Già, sembra un paradosso, eppure è proprio così. Per proteggere vite umane, il defibrillatore deve essere lui stesso protetto per prima. Ma non solo. È vitale che sia letteralmente sempre ben visibile e raggiungibile in modo tanto agevole quanto rapido. E per rispondere a tutte queste necessità, che nascono le teche e i totem per defibrillatori Carvel. Termoriscaldati, termoventilati e retroilluminati, adatti ad ogni condizione. Per proteggere dalla polvere, per proteggere dagli agenti atmosferici, per essere usato anche in viaggio. Finalmente, grazie a Carvel, potrai utilizzare i defibrillatori nei luoghi che reputi più idonei, garantendo così alle persone sempre massima sicurezza. Desideri maggiori informazioni? Richiedi una consulenza personalizzata.